L'ultimo giorno di marzo, che è anche l'ultimo dello stato di emergenza, ha portato la riapertura del ponte ciclo pedonale sul Tordino che collega Giulianova a Colonia Spiaggia, frazione del comune di Roseto. L'opera di manutenzione straordinaria è stata curata e predisposta dagli uffici comunali di Giulianova. Numerosi gli interventi eseguiti nei mesi di chiusura come il rifacimento del parapetto, il restauro e la parziale sostituzione del tavolato a terra, la levigatura, la stuccatura e il trattamento con vernice protettiva delle travi portanti. Tra le varie cose che abbiamo ereditato in una condizione disastrosa c'era il ponte ciclo pedonale, un lavoro di squadra, siamo riusciti a intercettare i fondi della comunità europea, in più un fondo aggiuntivo da parte della regione Abruzzo, l'allora assessore Mauro Febo ci diede una mano, ringrazio tutti, in primis l'assessore dei lavori pubblici del comune di Giulianova Giampiero di Candido, lo finiamo, lo ricondizioniamo, lo riconsegniamo alla cittadinanza e sarà ancora una volta uno snodo strategico per unire sia la città di Giulianova che anche la città di Roseto. Un ponte che era diventato pericoloso negli anni? Era pericoloso tant'è che in qualità di consigliere provinciale ho anche richiesto una prova di carico del ponte che c'è stata ed è stata, ringrazio anche qui l'ingegner Ranieri della provincia di Teramo, prova di carico che è stata superata, quindi adesso è non solo in una condizione estetica gradevole ma è anche molto sicuro. Completati questi lavori si pensa all'estate? Sì, vengo proprio adesso dal cantiere sul lungomare monumentale, anche qui siamo in addirittura d'arrivo, io penso che prima della Pasqua riusciremo a completare il cantiere e a riconsegnare anche quest'opera strategica per la città, un'opera lungimirante che sicuramente darà lustro al nostro lungomare monumentale ma darà lustro a tutta la città di Giulianova che vive un'evidente primavera, una riqualificazione di tutte le aree in centro che non terminano qui perché con la rigenerazione urbana stiamo facendo diverse valutazioni che partono dal Nautico e che finiscono su Via Nazareo e Saulo e Via Orsini.